Questo signore che accanto a me si chiama Romani ed è, rappresenta la destra ad Arezzo, quindi non so, posso chiamare Camerata Romani? Ma i Camerati erano, fanno parte di una, come dire, di un'epoca storica che io rispetto profondamente. Ah quindi però rinnegati? No, no, rinnegare niente, però come ha detto Storaci, i Camerati sono quelli che sono morti per un'idea. Hai capito? No, mi sono permesso di partire con Camerati perché so che ad Arezzo voi avete una convention importante che arriva uno che era un Camerato, almeno non so se rinnega. No, 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 no. E tanto era uno di quelli balordi. Sì, sì, noi non abbiamo rinnegato niente, viene Teodoro Buontempo per il congresso della destra, viene per l'elezione del presidente provinciale, per i delegati del congresso regionale e nazionale. Teodoro viene come presidente onorario perché lui non era obbligato a venire, però il rapporto che ha con Arezzo è buono e allora ha deciso di venire, di fare una puntata ad Arezzo proprio perché ha tanti amici e vuole venire con noi. Io consiglio anche a chi non fosse di destra di andare a vedere Buontempo perché è un personaggio che, se non altro è caratteristico, era detto Er Pecora. Er Pecora, il famoso Er Pecora. E faceva parte di quell'ala proprio che aveva la labbrata come ideale di risanamento della società. Ora mi ci viene da ridere perché Er Pecora è stato, però poi alla fine era uno dei vecchi missini della vecchia guardia. Tra l'altro ti dico anche un'altra cosa, al congresso di Fiugi quando fu fondata Alleanza Nazionale, Teodoro Buontempo era capo di quella area dell'ex movimento sociale che non voleva confluire in Alleanza Nazionale. E tutti quelli si erano coagulati con lui dicendo che si fa, si mette in minoranza fini. Poi lui non ebbe, diciamo, non dico il coraggio, ma disse no questo è un percorso che aveva fatto, allora non misero in minoranza fini. Ma se Buontempo avesse detto sì mettiamo in minoranza fini, Fini sarebbe andato in minoranza. Quindi per dare una battuta come faccio di solito i miei servizi Er Pecora ha commesso la pecorina. Sì, no, diciamo che Teodoro diciamo le sue battaglie le ha fatte, anche quando siamo rimasti fuori dal Parlamento per il tradimento di una persona che si chiamava, a non ricordo nemmeno come si chiama, noi siamo rimasti fuori. Te lo ricordo o ti fa finta? No, ho un'avversione naturale verso i traditori io, per cui non li cancello dalla mente. E quindi siamo rimasti fuori, anche quello è stata una battaglia perché lui è ripartito come consigliere provinciale, per cui ha fatto il consigliere provinciale, ora è assessore, è stato eletto, è assessore alla regione Lazio, si sta comportando bene. Pensava alla pastorizia, visto che nel Lazio c'è. No, no, lui ha fatto anche un bel piano casa, il mutuo sociale nel Lazio ha avuto applicazioni, questo volevamo portare l'Arezzo, poi gli arettini purtroppo non ci hanno dato fiducia, ma noi dovremmo portare anche l'Arezzo. Però ho visto delle scritte nere con scritto piano sociale, apriamo il piano del caso. Sì, io sono un po' contro la gente che scrive nei muri, mutuo sociale per le cose lì, anche perché ne è con uno slogan scritto sul muro che si fa politica, si fanno con le cose che si portano dentro le istituzioni. Ovviamente io mi sono permesso di scherzare con Enrico Romani perché lo conosco, con Cristiano Romani perché lo conosco, è sempre scherzato, e tra l'altro è una persona che accetta gli scherzi gradevoli. Comunque ripetiamo in finale questa convention che avete. È il congresso provinciale, sì, sabato mattina. Siete ad Arezzo? Sì, al Continentale, Piazza Guido Monaco, dalle 9 in poi ci saranno tanti ospiti, e poi dalle 11 faremo la nostra assise congressuale e poi tutta pranzo dopo aver eletto il Presidente Provinciale che probabilmente sarò l'uscente e rientrante. Sì, quindi plebiscitario riconfermato. Ora ti aspettiamo per sentire che programmi avrete dopo che sarai eletto. Perfetto, vi aspetto anche a voi. Ma l'hai già minacciati per cui sai che te lento? No, no, sono già stati etichizzati in maniera molto tranquilla. Ok, ok. A presto. Grazie. Sto per dire a noi, ma ha detto a noi. No, bene, grazie.